Il Comune ha sul proprio territorio circa 300 telecamere di videosorveglianza urbana. Al momento utilizziamo degli operatori che fisicamente verificano, quindi guardano le telecamere. Utilissimo l'intelligenza artificiale perché ci può permettere quindi di cogliere determinate situazioni di rischio come potrebbe essere un assembramento pericoloso di persone, come in questo periodo legato alla pandemia Covid. Ci consentirà di avere un controllo ancora migliore, sistematizzato soprattutto di tutti i dati che pervengono in sala operativa.